Questo mese gratuito di pannolini permetterà comunque di alleviare quelle che sono le difficoltà economiche delle cittadine di Pescara, sia quelle che hanno richiesto il buon'ispesa, ma anche di coloro che effettivamente sono seguiti dai servizi sociali del Comune di Pescara. Quindi il Comune c'è e continuiamo su questa strada con altre iniziative che ovviamente verranno a divenire. Sarà la protezione civile a distribuire a casa questi pannolini? Sì, dopo l'esperienza eccezionale, ringrazio ancora una volta le associazioni di volontariato e di protezione civile coordinate dal mio servizio, staranno loro ad andare a casa, citofonare e consegnare la fornitura per un mese alle 301 famiglie, verosimilmente 301 bimbi che usufruiranno di questa fornitura gratuita e molto gradita, aggiungo. Assessore, una bella iniziativa quella presentata questa mattina assieme al Sindaco. Quasi 50.000 pannolini ai bambini delle famiglie più bisognose di Pescara. Un grosso applauso innanzitutto a chi ha donato questi pannolini. In secondo luogo, noi oggi diamo un'ennesima risposta a tutte quelle persone che vivono questo momento di difficoltà connessa a tutto quello che è la problematica del coronavirus. Siamo contenti che quindi con un'altra iniziativa, con un provvedimento concreto, perché diamo questi pannolini che verranno recapitati a queste persone bisognose, un altro aiuto concreto da parte del Comune di Pescara. Un'iniziativa lodevole da parte di tutta l'amministrazione comunale per aiutare quantomeno le famiglie che oggi soffrono e hanno bisogno. Ci saranno anche altre iniziative. Grazie.